Ha preso il via stamattina a Nuoro, nel Teatro Eliseo, la quattordicesima edizione del Fermi Modelle United Nation, la simulazione di un'assemblea generale dell'ONU organizzata a fini didattici dal liceo scientifico Enrico Fermi. Un'iniziativa di grande impatto per gli studenti, quali le prospettive? Le prospettive sono nell'iniziativa stessa, cioè avvicinare sempre di più l'Europa ai giovani perché possano progressivamente sentirsi davvero cittadini europei. Un'iniziativa di grande valenza didattica, ma direi anche civile. Non per nulla ci onoriamo di avere quest'anno, in questa edizione, sia il saluto del Presidente Pigliaro, non formale, e ancora più gradito il saluto del Presidente Napolitano, che è notoriamente molto sensibile e molto vicino ai giovani, oltre che uno degli europeisti più convinti di questo stesso Paese. Due temi all'ordine del giorno. Il ruolo dell'agricoltura sostenibile come strumento di riduzione della povertà e malnutrizione nel mondo e i possibili interventi in questo campo da parte delle istituzioni internazionali. Il secondo punto all'ordine del giorno è l'inclusione sociale delle persone colpite da disabilità che rappresentano il 15% della popolazione mondiale. Anche questo è un esercizio di educazione alla cittadinanza. Non vedo dubbio che ogni anno vengono individuati dei temi che possono essere davvero degli elementi di arricchimento della competenza di cittadinanza di questi ragazzi. Non vedo dubbio che il tema dell'agricoltura sostenibile e dell'inclusione siano dei temi assolutamente universali e che perciò sono nella disponibilità non solo di studio ma anche relazionale tra tutte le delegazioni che in questi giorni stiamo ospitando dalla Sardegna, dall'Italia, dalla Polonia, dalla Spagna, dalla Germania, dalla Svezia. E' veramente un happening dei giovani e degli studenti europei che annualmente ospitiamo e organizziamo come liceo norese e che la quattordicesima edizione non dice tutto perché è realmente ormai la più antica d'Europa. Grazie. Grazie. Grazie.